Stiamo realizzando un progetto internazionale, un progetto biennale, Comenius, che avrà come prodotto finale un e-book, Thesaurus Europe, e si sta scrivendo proprio a San Severo, nella nostra scuola in questi giorni, il quarto capitolo, un capitolo fatto di video, di documentazioni, di vita, di tesori insieme, condivisa, anche visitando tesori architettonici dei dieci paesi partner di questa progettualità. Una progettualità per una scuola media molto forte, perché sono fermamente convinta che sia un processo di attivazione, da attivare già da giovani, perché si acquisisca quella disponibilità alla mobilità, alla flessibilità, all'inclusione, all'adattamento, tutti i valori importanti per il futuro cittadino d'Europa. Momenti di condivisione, scuola, famiglia, utenza, di reale sinergia, perché soltanto insieme queste agenzie educative potenti, che vivono dei momenti di forte crisi, innegabile, ma che insieme possono sostenere un progetto, si incontrano e danno il meglio di sé. Le famiglie che io ringrazio in questo momento hanno dato prova di veramente una disponibilità estrema e secondo il progetto dell'E3L europeo dell'Agenzia nazionale che ci rappresenta, un progetto condiviso tra giovani e adulti, perché tutti in qualsiasi momento possono continuare ad apprendere. Il Comenius è un progetto finanziato dalla Comunità europea della durata di due anni, per cui siamo partiti dal settembre del 2013 e prevede 10 mobilità all'estero. Muoveremo docenti ed alunni in ogni paese partecipante al progetto. Si tratta di 10 paesi che condividono i loro tesori e li mettono a disposizione di un bimbo di nome Passepartout. Alla fine realizzeremo un e-book per raccogliere tutti i tesori dei paesi partecipanti. Un saluto fra Spagna a tutta Europa. Un saluto fra Roma. Un gran buon sollo della Francia e un gran merci per l'Italia che ci ha così bene accogli. Witam e serdecznie pozdraviamo Pospetto. Grazie a tutti i nostri colegi ha accogito. Viva il Comenius!